ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come elisa isoardi torna ad essere la protagonista indiscussa dalla scena mediatica per via del suo futuro in rai la conduttrice è stata fatta di nuovo fuori dal palinsesto televisivo ancora oggi non si sono placati rumor circa l'addio alla rai da parte di elisa isoardi arrivato nel 2020 e che l'ha tenuta lontano dalle scene per diverso tempo prima di tornare insieme allo show di vorrei dirti che la conclusione della prima stagione del programma del programma è stata super chiacchierata tra ascolti e anche storie raccontate insieme alla complicità di volti noti della cucina italiana uno tra i quali anche gennaro esposito eppure in queste ore a fare discutere i magazine troviamo il futuro della conduttrice davanti le telecamere di casa rai la quale potrebbe avere un destino diverso in vista della stagione televisiva 2023 2024 elisa isoardi costretta di nuovo a lasciare la rai in queste settimane dunque sono state davvero numerose le notizie pubblicate su elisa isoardi circa il futuro della conduttrice in casa rai dato che secondo alcuni rumori il programma di vorrei dirti che potrebbe fermarsi alla prima edizione quanto detto dunque dipenderebbe dagli ascolti riscossi dallo show pomeridiano della domenica in onda su rai 2 ritenuti non soddisfacenti per dare vita ad una seconda edizione rumor in tal senso che non trovano ancora oggi una conferma ma nemmeno elisa isoardi leggendo la sua lettera di saluti allo show non ha in alcun modo fatto riferimento ad una seconda possibile stagione dello show alimentando così una serie di news che danno per conclusa l'esperienza della conduttrice nel programma e anche in casa rai in senso lato al tempo stesso però sembrerebbe anche che per la isoardi ci siano altri piani in programma che potrebbero essere rivelati a breve cosa succederà adesso ad elisa isoardi attualmente comunque sia sembrerebbe da escludere un imminente addio alla rai ma quanto detto implica comunque dei cambiamenti non indifferenti infatti sembrerebbe che elisa isoardi stia già lavorando in modo intenso alla produzione della prossima stagione di linea verde programma della domenica che la vista come indiscussa protagonista negli anni scorsi se così fosse dunque per elisa si tratterebbe di un grande ritorno in uno show che in passato le ha permesso di ottenere un'importante crescita professionale un nuovo percorso lavorativo quindi da realizzare al fianco di beppe convertini e sul quale almeno per il momento vige il massimo riservo assoluto nel frattempo dunque non resta che attendere la presentazione dei palinsesti di casa rai che avverrà tra qualche settimana quando volti noti e riserve verranno finalmente sciolte con varie rivelazioni per il pubblico grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire mettete mi piace commentate in particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie ciao e ci vediamo nei prossimi video grazie per aver guardato il video